Un retroscena che nessuno sapeva su Serena Rossi arriva da una sua cara amica e collega in un'intervista molto interessante L'attrice partenopea ha iniziato da un posto al sole per finire in prima serata su Rai 1 dove è molto amata come assistente sociale conosciuta sotto il nome di Mina Settembre È proprio dal set che arriva un retroscena particolare. Serena Rossi, Ansa, il successo che, da due stagioni a questa parte, riscuote la fiction liberamente tratta dai romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, Mina Settembre, è da capogiro Rai 1 ha sfondato ogni record grazie alle avventure dell'assistente sociale che vive nel capoluogo campano con due care amiche ed un cuore diviso a metà tra due uomini Tra le sue amiche c'è Irene con cui, proprio nella stagione corrente, ha appena fatto pace dopo aver scoperta che la stessa è stata amante del padre e che Gianluca, in realtà, è suo fratello e non figlio di Paolo È proprio Irene interpretata da Christian Filangeri meno che ha svelato qualche aneddoto su Serena Rossi In particolare, le due sono molto amiche da anni, da quando si sono incontrate nel 2010 sul set di ho sposato uno sbirro e, oltre ad essere ottime colleghe, hanno cominciato a frequentarsi fuori dai riflettori Sì, siamo davvero molto amiche, Serena è stata anche al mio matrimonio ma, ci tengo a dirlo, per recitare in questa serie non sono stata mai raccomandata, nessuno sapeva che fossimo amiche, è stata una bellissima casualità Serena Rossi e Davide Devenuto, com'è vederlo baciare la sua amica per lavoro? La foto degli attori di Mina Settembre 2 alla conferenza stampa Rai di presentazione della nuova stagione televisiva, foto Hansa Riccardo Antimiani Chi ha visto Mina Settembre sa che Irene è sposata con Paolo, rispettivamente interpretati da Christian Filangeri, amica di Serena Rossi e Davide Devenuto, compagno dell'attrice partinopea Com'è per Christian interpretare quel ruolo? A di più tfa raccontato, ci siamo divertiti molto io, Davide e Serena, sul set abbiamo riso davvero tanto per questa situazione, precisando che interpretare la moglie di un attore che conosce così bene anche nel privato, ha reso tutto più naturale Irene non è stata particolarmente corretta nei confronti di Mina, nonostante il suo segreto era a fin di bene Christian, durante l'intervista, ha svelato di non essere mai stata tradita da un'amica